Bravi che fate un applauso a Francesca, grazie, molto gentile. Io di solito quando mi autopresento dico che sono il colpevole dell'acciclabile evento. Che dico subito, vedete che è scritto qua, e così spiego anche questa cosa, come vedete che non c'è il trattino T.O., Venezia trattino Torino, perché se fosse col trattino sarebbe la malattia automobilistica delle destinazioni, che è una delle cose che nel libro, Progetto della Lentezza, provo a spiegare. Noi siamo purtroppo molto ossessionati dalle destinazioni, al turismo di destinazione, vado a Venezia, e in realtà la lentezza ha la possibilità di aiutarci a scoprire quello che c'è tra Venezia e Torino. E' per quello che non c'è il trattino, perché in realtà è una unica fluida linea quella che va da Venezia e Torino, va bene? E quindi mi piace molto, ci è sempre piaciuto molto, progettare questa idea di lentezza. Non abbiamo le tappe che sono l'ossessione di chi va in bici, di chi progetta le ciclabili. Io mi arrabbio tantissimo e dico, ma chi se ne frega delle tappe? Perché se io amo gli alberi e ho voglia di fare 5 km al giorno perché voglio vedere le piante, faccio 5 km al giorno e mi fermerò a dormire dopo 5 km. Se invece mi piace, che ne so, vedere i borghi storici, mi fermerò tutti, capite? Allora l'idea della fluidità della linea che si spoglia di questa fatica di disegnare le tappe come preordinariamente noi dobbiamo fare quelle cose, siamo addomesticati. Allora l'idea di lentezza di cui proveremo a parlare e cui abbiamo provato anche convento di introdurre anche un po' in Italia, esattamente quella di un'idea che sposa la riappropriazione dei paesaggi a seconda di quello che noi siamo, le nostre sensibilità e di quello che noi possiamo, e qui c'è un lavoro da progettista molto forte che dobbiamo ancora fare, di quello che noi dovremmo essere, vorremmo essere nel migliore delle intenzioni possibili. Allora adesso vi mostro, scusate faccio un po' di pasticci, da questa preoccupazione nasce il libro Progettare la Lentezza. Il libro Progettare la Lentezza nasce esattamente da questa preoccupazione, la preoccupazione di vedersi sfilare dall'ossessione della bicicletta il grande progetto di territorio che noi possiamo fare attraverso la ciclabilità. La bicicletta è un mezzo, non è il fine. I svizzeri lo spiegano molto bene nelle loro norme tecniche di progettazione delle ciclabili e dicono molto chiaramente che ci sono due possibili infrastrutture ciclabili, quelle urbane e quelle per il tempo libero. In quelle urbane effettivamente l'obiettivo è la destinazione, io parto da casa, devo arrivare al lavoro nel minor tempo possibile e obiettivamente mi interessa poco quello che c'è tra casa e lavoro, perché devo arrivare al lavoro. Ma se invece devo progettare qualcosa per il tempo libero, no, l'obiettivo non è più la destinazione, è la stessa strada. Dicono così eh, gli svizzeri nel manuale tecnico della Confederazione Svizzera, non dell'associazione o del club degli ingegneri o degli architetti, no, della Confederazione. Dicono che l'obiettivo è la strada, è la gradevolezza, è la riconnessione con la bellezza. E allora cambia, capite, cambia il modo di approcciare il progetto, di pensare i benefici della lentezza. Siccome in Italia siamo molto ossessionati, lo dico nella tana del lupo, quindi non so se poi riuscirò a guadagnare l'uscita, ok, vediamo, non lo so, mica detto. Siamo un po' ossessionati dal mezzo, più che da quello che il mezzo può darmi. Allora, io diciamo che provo a essere ossessionato invece di quello che il mezzo può darmi, o che vorrei che ci desse, ma adesso sui congiuntivi cominciamo a far casino, ho scritto questo libro, che ha tre capitoli, lentezza, linea, turismo. E il turismo è una grande fregatura, il turismo ti spolpa, ti uccide, però dobbiamo parlarne, è turismo lento. A me piace molto di più parlare di viaggio, cioè il viaggio è qualcosa che è sempre un'iniziazione, è sempre un attraverso, è sempre una scoperta, un'esplorazione. La lentezza, adesso proverò a dirvelo, la lentezza è una chiave, secondo me, molto importante per tornare a gustare quello che facciamo. Ecco, non è che dobbiamo farlo perché wow, mettiamo su una mappa tutte le ciclabili che abbiamo fatto, tutti i posti dove siamo andati in bici. Ragazzi, non fatelo, vi prego. L'idea è gustare, sono felicissimo che adesso ero nel bookshop, così perché cercavo una cosa che non avevano, e ho scoperto che c'è una conferenza sul gusto, sulla cucina italiana, qua a Pavè, bravissimi. No, Barvissimi è lo stesso, dite di sì. All'M9. All'M9. E ci sono tutti i libri, così faccio un po' di pubblicità, di Massimo Montanari. Massimo Montanari è uno storico medievale che insegna all'Università di Bologna, è bravissimo, e ha scritto dei libri come Il cibo come cultura, L'identità italiana in cucina, che sono lì, no? E sono felicissimo che io, quando vedo i libri di Massimo Montanari, parlo ad alta voce, ho questi difetti, dico ma che figata, bellissimi. E quello di fianco mi ha detto, ma davvero sono belli? Allora gli ho spiegato, l'ha comprato, e io già sono felice, fine. Per me è già andata la giornata, capito? Perché Massimo Montanari fa l'esatto lavoro, come ho provato io umilmente a fare la sua lentezza, di spostare l'obiettivo dalla morbosità del cibo, va bene, alla cultura del cibo. E qui il gioco è lo stesso, e come lo fa? Attraverso le ricette, cioè lo suo strumento sono le ricette e la storia. E lo spostamento che lui prova nei suoi libri meravigliosamente è quello di spostare le persone dall'abboffarsi al capire cosa mangiano, ma non di ingredienti, della storia che sta dentro quegli ingredienti, questo è meraviglioso, è meraviglioso. Ed è una lentezza, credo che la lentezza possa esattamente fare questo, aiutarci a spostarci dall'ossessione del sellino all'idea che, cavolo, ma noi siamo in un paesaggio e possiamo anche riprogettare i territori in questo senso. Vi faccio vedere questo video, che devo solamente schiacciare la barra passatrice, vedi che Francesca è, sono tutti pronti, hanno paura che io sbagli la barra, lascio a fare che non la sbaglio. Allora, l'ho già fermata. Vè, così siete contenti, no? Vè, ho fatto parecchie prove per fermarmi e fare vè. Allora, questo video arriva dal progetto Vento. Allora, il progetto Vento, due parole, parte nel 2010, è un'idea di Politecnico di Milano, io insegno a Politecnico di Milano, è un'idea mia, di alcuni miei collaboratori, tutti assieme, insomma. e ci immaginiamo di realizzare una ciclabile turistica, una ciclovia turistica, turistica ma nel senso che dico io, non nel senso del turismo. Tra Venezia e Torino lo chiamiamo Vento. Non c'era la ciclabile prima, sì, c'erano dei pezzi, c'era l'idea della ciclabile del poi delle lagune, c'era delle linee che erano mezzi itinerari, mezzi ciclovie, mezzi sulla strada statale, allora l'idea è stata subito quella di invece costruire le condizioni perché questo progetto diventasse un progetto di grandissimo, dove intanto era tipologicamente una ciclabile ben fatta, e soprattutto riuscisse ad accontentare tutti, non gli esperti della bicicletta, un altro tema molto importante, ma quindi le famiglie con i bambini, ma soprattutto l'idea era disegnare una linea che fosse capace di rimettere le persone nel paesaggio, come ho detto prima, e anche generare condizioni di rigenerazione territoriale, rimettere lavoro, laddove la linea passa. Se siamo riusciti in questi anni a ottenere dei finanziamenti, e siamo riusciti a ottenere finanziamenti, pensate, non c'era un euro per la ciclabilità di questo tipo, oggi abbiamo 600 milioni di euro che sono niente, ma li abbiamo, e anche perché abbiamo messo in moto una cosa che si chiama Vento Bici Tour, cioè a un certo punto noi abbiamo fatto lo studio di fattibilità, noi in Politecnico, e per far capire le ragioni di questo progetto abbiamo preso le nostre biciclette nel 2013 e abbiamo cominciato a pedalare sulle ciclabili che non c'è, che non c'è, Peter Pan, va bene? Abbiamo cominciato a pedalarci, poi nel 2017 è venuta anche Francesca, ma qual era l'obiettivo? Non era fare un evento e wow, che bello, pedalato, era esattamente fermarsi nelle piazze di tutti i comuni e parlare con i sindaci, parlare con le aziende, parlare con le associazioni, parlare con i cittadini e spiegare che con un certo modo di pensare al cicloturismo avremmo immaginato di aprire, di riaprire negozi chiusi, ho centinaia di foto di piccoli negozi, di piccoli comuni di aree interne chiusi, distrutti dalla capoanalizzazione, dalla logistica, dai centri commerciali stupidi che sono stati fatti. E questo, lungo il Po, è un'arteria di sangue aperta, è così, capito? È così, è tutto chiuso, i giovani non sanno dove sbattere la testa, vanno via, scappano. Allora, dopodiché, noi siamo andati a studiare cosa succede, non a studiare le ciclabili come sono fatte in Europa, che me ne può fregare di meno, mi interessa, ma siamo andati a vedere gli effetti e perché hanno fatto ciclabili in Europa. Cioè, sono andato a Berlino a intervistare il ministero, mi hanno detto, ma perché avete fatto 50.000 km di ciclabili da viaggio? Perché l'avete fatto? Perché dovevate vendere biciclette? No. E loro mi hanno risposto, sapete cosa mi hanno risposto? Loro hanno cominciato a fare ciclabili da viaggio a partire dalla fine degli anni Ottanta, a Muro di Berlino, e loro mi hanno detto, perché noi volevamo costruire delle condizioni occupazionali e di rigenerazione che portassero coloro i ricchi che stavano a ovest verso est. E quindi abbiamo cominciato a disegnare ciclabili come una delle strategie di riequilibrio territoriale. Quindi, capite, le motivazioni non erano la bicicletta, le motivazioni erano il progetto di territorio. Wow. Poi abbiamo scoperto la stessa cosa in Svizzera, uguale. Abbiamo detto, ma sta a vedere che qua le ciclabili non le fanno per la bicicletta, le fanno per altro. E questo per me è molto interessante. Allora, con Vento Bicitura abbiamo provato a fare la medesima cosa, siamo andati a spiegare alla politica che la ciclabili non veniva fatta perché io avevo 36 tessere di non so quali partiti della bicicletta, ma veniva fatta per dare un'occasione di lavoro, di bellezza, e uno degli slogan nostri è ricuciamo la bellezza, per rimettere in circolo quella bellezza che noi perdiamo con la velocità, perché quando noi passiamo il polo la passiamo a 100 all'ora, 200 all'ora, non vediamo niente, non sappiamo niente di quello che c'è. Eppure ci sono delle cose meravigliose, delle storie, e queste storie sono in sequenza, in linea. Massimo Montanari lo spiega molto bene in quel libro, Identità, così comprate quello e non comprate questo. No, se non comprate questo la libreria sarà rabbia, quindi comprato. Lo spiega molto bene, racconta alcune ricette, che alcune ricette hanno il loro senso proprio per alcune vie medievali, dove si scambiavano le spezie. Quindi è bellissima questa cosa, i cammini che a loro volta generavano ricette e cibi. E oggi come possiamo rileggere queste cose? Progettando ciclabili e cammini che sono capaci di farti leggere queste cose, e di rimetterti nel paesaggio per capire da dove tu arrivi. Cosa sei? Voi, se vi vedete allo specchio, articolo 9 della Costituzione, dovreste vedere il paesaggio, non quelle schifezze che sono capannoni e bale varie. Cioè dovreste vedere la bellezza del paesaggio fatto di storie e di storie. Allora, questa roba si può ricostruire, non è che le ciclabili e i cammini risolvono tutto, no, però si possono ricostruire lavorando di lentezza e lavorando con un certo modo di progettare, secondo me, le ciclabili di lunga distanza, quantomeno. e quindi nasce Vento Bici Tour, capito? Spiegando queste cose, spiegando queste cose, cioè il nostro obiettivo in otto anni che abbiamo fatto Vento Bici Tour era questo. Facevamo dei video in cui cercavamo poi questi video di spiegare alcune cose e adesso vi faccio vedere questo video e voi poi mi direte la parola che manca. Ok? Siete pronti? Yes. Ah, è in inglese? Ah, via. Vento e sto partendo Vento e inserita ciao Siamo già in ritardo Siamo già in ritardo Siamo per mia mania Grazie a tutti. 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 Vedete che c'erano anche Cinelli, eh? Grazie a tutti. 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 Abbiamo fatto questo 20 Bici Tour portando in giro le persone a sponsorizzare insieme a noi la progettualità della ciclovia, no? E mi sono accorto che le persone a volte si fermavano, si inchiodavano in bicicletta, quando facevamo quel... Inchiodavano perché? Perché guardavano i papaveri. C'era gente di 40 anni che non aveva mai visto i papaveri nel campo, li aveva visti in foto, li aveva visti nel giardino della nonna. È così. È così. È così perché rischiamo continuamente con la velocità di essere dissociati da quelle molecolare che compone i nostri paesaggi. Allora a me piace l'idea, mi piacerebbe l'idea politica, politica proprio, di immaginare che c'è un piano nazionale che genera ciclabili e cammini, perché i cammini sono una medesima cosa, con l'intento di offrire ai cittadini italiani e straniere, tutti quelli che vogliono venire, tutti quelli che vogliono stare, la grande opportunità di apprendere, di capire, di riconoscere. Non fare un piano nazionale, infatti io non chiamo mai la ciclabilità mobilità ciclistica, perché non mi piace. Mi piace l'idea che abito il movimento lento, cioè abito nel senso che lo vivo e cambia, è habitus, cambia il mio modo di essere. Questo mi piace. Mi piace molto l'idea che io venendo dalla stazione qua in bicicletto a piedi, io ho abitato quel via Dante o come si chiama, non lo so, capito? E quindi ho visto la scuola che c'è lì, con l'ingresso fatto bene, con il davanti raciclabile, l'ho vista, capite? Allora questo vuol dire che, questo capita perché ho deciso di stare al gioco della lentezza, che come ho provato a dire qua, che lavora come una lente. Poi noi abbiamo una lingua meravigliosa che amesche la parola lente incastonata dentro la parola lentezza e questo vuole dirci qualcosa. Vuole dirci che fondamentalmente noi con questo dispositivo, cioè non rinunciando alla lentezza, noi allunghiamo la vista. E questo è, quindi al contrario, quello che provo a dire è, ma ragazzi, ma quindi se rinunciamo alla lentezza, rinunciamo a vedere un pezzo delle cose. Riconoscere, quel discorso molto bello che diceva la prossimità e l'identità, no? Quella persona che è intervistata, quelle sono delle interviste che facevano le persone che venivano con noi, è una cosa molto bella, la prossimità. La prossimità è qualcosa che vedi lì, ma perché tu ci sei lì, perché vai a meno di 20 all'ora. Se vai più di 20 all'ora, fine, delle trasmissioni, tutto cambia, più o meno succede questa roba qua. Quello che c'è sopra è quello che noi vediamo andando velocemente. Noi non è che non vediamo, io ho preso un'alta velocità per venire qua, non è che, capito, sono, non voglio dire nessuna parola, non è che, capito, vengo a cavallo, mi muovo a cavallo ovunque perché è la dottrina della lentezza, ma no, cioè voglio dire, anche questo libro non è un libro contro la velocità, è un libro per la lentezza. Come dire, ma allora, nel nostro, nel nostra cassetta degli attrezzi, è possibile che continuiamo solamente a pensare alla velocità come l'uscita dalle crisi, come il riscatto di un paese? Ma ha senso? Ma davvero? Noi siamo il partito della velocità che ogni volta che siamo in crisi dobbiamo investire in infrastrutture veloci? Subito i nostri ministri dicono facciamo l'autostrada, l'aeroporto, il ponte sullo stretto e non so che cosa. Cioè, se voi state attenti, elencate le proposte, sono proposte di velocità, la tecnologia è una proposta di velocità, ti fanno fare milioni di cose al giorno e tu la sera sei disperato come prima perché hai l'angoscia di non aver fatto delle cose che dovevi fare. Cioè, anche se abbiamo oggi dei dispositivi con cui potremmo fare milioni di robe. Allora, la questione è quindi non essere contro la velocità, ma capire che se perdiamo la progettazione della lentezza, noi perdiamo qualcosa, siamo un po' meno noi, un po' meno il meglio di noi poi, secondo me. Allora, vedete che infatti sotto la scena si compone. Ora, è chiaro che io ho bisogno di andare da Milano a Venezia in tre ore perché se no non arrivavo qua, ma non posso pensare tutta la mia vita di stare solamente nel semipiano superiore, capite? Non posso pensare. E io, da progettista e da professore universitario che ho una responsabilità politica e civile, non posso proporre solo quella roba che sta sopra. Mi vergognerei. Ma non posso neanche proporre che la gente si chiuda nella stanza a lustrare la bici dalla mattina alla sera. La bici serve per stare nel semipiano sotto. Questo mi interessa. Perché i semipiano sotto non solo si accendono tutti i particolari, ma io attraverso un muro scrostato, piuttosto che un albero, capisco le cose. Come dicevamo prima, attraverso la lettura storica che fa Massimo Montanari, delle ricette, io capisco come mai i cappellacci di Ferrara e i cappellacci di Mantua differiscono per una spezia. Colpa dei veneziani, eh? Ed è interessantissima questa cosa. Ecco, questo è un pochettino, accademicamente, il ragionamento che proviamo a fare. L'esperienza di paesaggio attiva, abito il paesaggio, lo capisco, mi parla, mi dice qualcosa. E c'è un altro aspetto che ho anche sottolineato nel libro. Attenzione. Noi siamo persone che, io, non per carità, io sono una persona limitata. E quindi riesco a occuparmi solo delle cose che conosco. Anzi, dirò di più, io riesco a difendere quello che conosco. Quello che non conosco non lo difendo. Quindi se la mia esperienza è l'alta velocità e me la tolgono, scendo in piazza e faccio casino. Ma se io in tutti questi anni non mi sono più accorto di cosa c'è a Bondeno, della bellezza delle pioppete lungo il Po, o che a San Benedetto Po c'è un'abbazia meravigliosa, ma voi pensate che se ci fanno un capannone io vado a protestare? Non so nemmeno che esista. Ricordatevi che noi difendiamo quello che conosciamo. Quindi l'altra mia idea è se io avessi disponibilità e potere decisionale, ma riempirei l'Italia di sentieri ecciclabili? Perché la gente mi va in giro e si riappropria dei territori e non vuole che vengano degradati. Cioè, capito, è anche una struttura di antifragilità, anche per il nostro senso di appartenenza, per la nostra identità di luogo, si dice tecnicamente. Secondo me questo è un altro pezzo importante, per cui secondo me progettare e pianificare un acciclabile, un cammino, un atto politico, non l'accontentare la lobby o il club o non lo so io che cosa. Dopodiché c'è anche un tema di inclusione sociale, c'è un tema molto importante di lavoro. Questa è una cosa che noi abbiamo studiato molto, abbiamo visto che nelle grandi ciclabili europee il grande investimento che è stato fatto in lentezza, che poi parliamoci chiaro, costa poco, un'autostrada, le varie autostrade che vogliono fare in Veneto, anche per le varie olimpiadi che vogliono fare, non vorrei dire, queste sono botte da 20 a 40 milioni di euro al chilometro. Ora, un acciclabile, tranne quella robaccia sul Garda che vogliono fare, di cui io sono contrario perché a tutto c'è un limite, quindi distruggere il paesaggio del Garda per fare un acciclabile non ha senso, così lo dico chiaramente, come ho già scritto sui giornali, quella roba lì costa 3 milioni e mezzo al chilometro. Quella non è lentezza, quello è soddisfazione di un turismo che non ti insegna niente, in cui tu muscolarmente distruggi un paesaggio meraviglioso delle falese del Garda per fare che cosa? Per scodinzolare con la bici. Quello non confondete le cose, capite? Però è un'altra roba. Allora, in realtà quella non aggiungerà posti di lavoro, semplicemente garantirà a quelli che hanno già molti posti di lavoro, a reddito molto alto, di averne ancora di più. Mentre noi abbiamo bisogno di generare posti di lavoro... Ah, scusi, un chilometro, 10 chilometri, siamo intorno ai 200 mila euro, ok? Poi, dopodiché, se vogliamo fare quelle robe lì a 3 milioni e mezzo, parliamole. Parliamo nel senso che io non li farei. Noi poi, dopodiché, abbiamo bisogno, l'altra questione, l'altro grosso dilemma o obiettivo è che io, la mia preoccupazione è riuscire a generare lavoro dove non c'è lavoro, non dove ce n'è già. Quindi l'altra questione che possono fare le linee lente, la francigena, piuttosto che il sistema nazionale della circolamentà turistica, è di lavorare sulle aree interne, di lavorare sulle aree più dimenticate, che sono bellissime, c'è una bellezza meravigliosa, e noi continuiamo a far piovere sul bagnato. Quindi, come dire, immaginiamo investimenti su aree che non hanno certo bisogno di investimento statale per poi produrre benefici privati. Invece noi potremmo, nelle aree più fragili del paese, fare questo tipo di proposte. Questo tipo di proposte, queste qui sono valori massimi, in Austria siamo a cinque posti di lavoro per chilometro, ed è tantissimo, ma siamo più o meno a tre, quattro posti di lavoro per chilometro anche lungo l'Elba, o tra Venezia, scusate, tra Berlino e Amsterdam, cose del genere. Posti sconosciuti, posti che prima non avevano questa chance. Dopodiché le cose di attenzione non vengono per caso. Bisogna pianificare che turismo voglio. Cioè, voglio che mi arrivi lì la roulotte con la salamella, la stessa salamella tossica, da Venezia a Torino, o voglio alla Massimo Montanari, che quando io sono a Bondeno mangio i cappellacci fatti in un certo modo, magari organizzando un lavoro insieme alle aziende agricole, le osterie locali. Quindi, capite, è pianificazione. Non basta fare un'acciclabile e poi, wow, sono sostenibile, grinfando, fare un selfie e mi eleggono al prossimo turno. No. Cioè, è un lavoro culturale, è un lavoro anche di messa a sistema delle tante cose che devono stare attorno. E così anche per i cammini, la medesima cosa. Quindi, ma è bellissimo, perché è un impegno politico, istituzionale, culturale, professionale. Potremmo costruire tantissimi posti di lavoro su questa cosa qua. E chiudo immaginando che, come ho detto all'inizio, ripeto, non siamo contro la velocità, a tutto c'è un limite, intendiamoci, perché non ho dubbi, a tutto c'è un limite. vorrei che si provasse a dire che c'è diritto alla lentezza, perché non abbiamo solamente l'opzione velocità nelle nostre agende. Dobbiamo chiedere, secondo me, che si investa in lentezza, perché abbiamo diritto di poter vedere quei paesaggi, di poter andare in quelle osterie. E le persone che sono quelle osterie hanno il diritto di rimanerci, di non vedersi attorno a loro le condizioni di chiusura di tutti quei posti. Oggi, se tu vuoi andare a visitare le carrozze del risorgimento che sono custodite nel Palazzo Curiale a San Brèletto Po, devi sperare di capitare il mercoledì dopo le 18 e che un bravissimo ingegnere brasiliano ti apra e te le faccia vedere. Ma capite che follia questa roba. A San Brèletto Po si era fatta seppellire Matilde di Canossa, data la bellezza del posto. E noi oggi dobbiamo aspettare alle 18 di un mercoledì che un ingegnere brasiliano mi apra e mi faccia vedere. Non stiamo capendo niente, capite? Non stiamo capendo niente perché continuiamo a investire in realtà in velocità. Allora, finisco davvero. Quindi l'idea, capite, è dalla ciclabilità ai cammini a immaginare che sono progetti di territorio e non di mobilità e a cominciare a chiedere che la lentezza sia un diritto. E quindi adesso avete la possibilità solamente di leggere il resto nel libro. Grazie a voi. Volevo dire all'inizio bellissime quelle grafiche di Pavè. Sono belle, eh? Quindi figo quel designer di disegnatore che l'ha fatta. Molto belle. Complimenti. Bravo. Ah, ecco. Bravissima. Bello. Mi è piaciuto molto. Complimenti. Domande? Dibattito? Incazzature? Gente che è d'accordo? Gente che non è d'accordo? Siamo qua. Tanto sono nella fossa, non posso nemmeno scappare, quindi è bellissimo questo posto, eh? Tanta roba, tanta cultura. Cioè, un posto così, come dicevo prima, cioè, Venezia, che non ha certo bisogno, è un faro di cultura, potrebbe... domande, curiosità? Allora, la ciclovia in questo momento non è ancora realizzata, purtroppo, eh? Purtroppo. Partiranno i cantieri per il primo lotto, che è quello che va da più o meno da Piacenza, un po' a sud, un po' a sud-est di Cremona, in località Stagno Lombardo, Lombardo partiranno i cantieri, credo, quest'estate. È prevista in continuità, tranne alcune piccole situazioni che non si riescono proprio a sistemare, ma non ci sono i finanziamenti per farla tutta, perché lo dico molto, molto chiaramente, la regione Lombardia adesso, e da notizia di alcune settimane fa, ha messo i soldi, lei, quindi non lo Stato italiano, ha messo i soldi, lei, per chiudere gli altri lotti in territorio Lombardo, l'Emilia Romagna non mi risulta che abbia messo soldi, lo Stato italiano, lo ripeto, col PNRR, anche se ci raccontano che ci sono un sacco di soldi, ma in realtà ci sono solamente 600 milioni per sei anni, questi 600 milioni sarebbero sia per l'accecabilità da viaggio, sia per quella urbana, quindi è zero, è come aver investito zero, tanto per essere chiari, di cui peraltro 150 milioni erano già a bilancio, arrivavano già dai governi precedenti, perché poi i cittadini non gli vengono dette queste cose, e quindi siamo in sofferenza con la realizzazione, ecco, se vuoi fare delle ciclabili fatte bene, se vuoi semplicemente spendere soldi a fare cartelli, a fare andare la gente sul promiscuo, beh, questo si fa in 448, ma la gente sul promiscuo ti bruci via il 40% delle persone che verranno, perché il 40% del cicloturismo in Europa è fatto da più o meno famiglie o persone di questo tipo, e soprattutto quello che continuo a dire sgolandomi, anche se non viene compreso, è che l'88% della mobilità cicloturistica, per esempio, tedesca, è fatta senza accompagnatori, quindi è fuori da ogni proposta di tour operator, tanto per intendersi, quindi fate conto che il tetto massimo di esperienza turistica guidata in Europa ha uscito tra il 10 e il 15% di quelli che girano, cosa voglio dire? Voglio dire che l'investimento è importante fare un'ottima ciclovia con quello che abbiamo detto, perché la gente onora la lentezza, quindi si muove come crede e costruisce le tappe come crede, questa è una cosa che in Europa hanno capito perfettamente, noi siamo fissati e invece vogliamo costruire pacchetti e pacchettini e quindi spendiamo più soldi in pacchetti e pacchettini che nell'infrastrutturazione, l'infrastrutturazione però rimane, i pacchetti e pacchettini scompaiono, però ce la faremo, non c'è problema, Vento, quando noi abbiamo iniziato nel 2010, una delle prime telefonate che ho ricevuto lo racconto sempre è ma cosa fai, stai perdendo solo tempo, fare una ciclabile lungo il Po, ma ci sono solo zanzare, e questo mi ha convinto a farla, lo dico sempre, vai, ci sono dei finanziamenti europei assolutamente, non li abbiamo catturati per anni, per anni, tanti anni, 50 mila chilometri tedeschi più o meno li ha pagati l'Europa, li abbiamo pagati noi, cioè noi, con le nostre tasse, abbiamo pagato la ciclabilità in Europa, in Austria, in Francia, noi non li abbiamo catturati per tanti anni, ci sono quindi dei finanziamenti assolutamente, una quota di questi sono poi veicolati attraverso PNRR, ma sono molto pochi, ma non c'è una linea di finanziamento peculiare, qualcosa accade su questa bellissima proposta Eurovelo, quindi questa enorme tracce che dovrebbero essere però infrastrutturate, quindi ci sono dei finanziamenti che dovrebbero cascare proprio nell'Eurovelo, ma anche Vento è Eurovelo, è un pezzo di Eurovelo, però comunque non sono sufficienti, cioè, e in ogni caso tenete conto che noi, essendo tra i primi paesi EU, europei, cioè noi, per esempio, per poter catturare quei fondi dobbiamo comunque fare degli investimenti nostri preliminari, cosa voglio dire? Voglio dire che gli stadi di progettazione preliminare, quelli che tecnicamente si chiamano studi di fattibilità e progetto di fattibilità tecnico-economica, devono essere pagati dello Stato italiano, non possiamo usare i fondi europei per pagare le prime fasi di progettazione, lo può fare la Bulgaria, lo può fare la Romania, lo può fare l'Estonia, lo può fare la Moldà, no, Moldà non è, lo può fare la non so che cosa, noi giustamente, perché siamo cresciuti, siamo più maturi, dobbiamo avere i nostri soldi e qui entra in crisi il sistema della cercabilità, perché nel frattempo, non avendo noi una voce di bilancio dedicata a questo, siamo in crisi e purtroppo nel passato non ha giocato a favore una certa incultura nel pensare che la cercabilità potesse essere semplicemente risolta con qualche cartello di 30 all'ora piuttosto che con qualche itinerario un po' sulla carta o qualche accompagnamento, questo purtroppo non ha, secondo me, a mio parere, giocato a favore di una crescita culturale da parte dei ministeri, delle regioni, nello stanziare fondi, quello che ancora non capiscono che la cercabilità deve essere come tanti altri, come rifare buche nelle strade, deve avere una voce di bilancio che si occupa della manutenzione delle cercabili e anche dei sentieri, se voi andate nella Francigena vergognate della carta d'identità che avete in tasca per dire, è un peccato, è brutto che io dica queste cose ma è così, è così, purtroppo è così, quindi bisogna lavorare molto a questo ma non è un problema, si riesce a fare. Anche perché in questo momento c'è molta sensibilità e quindi è un momento molto buono per poter far cambiare di passo le cose. Prego. Bene, il libro a disposizione fuori di un tavolino qua. Fine. Per l'autografo. Per l'autografo, anche l'autografo non lo so, vediamo. Scherzo. Grazie. Grazie. Grazie.